Come creare una ninfea perfetta in Minecraft Posiziona nell'acqua una botola Mettici sopra un item frame All'interno dell'item frame un girasole E sopra la botola un corallo rosa In quest'ordine Decora a piacere con le ninfea di Minecraft Per creare l'effetto di foglie Ed ecco a voi come costruire la ninfea perfetta